buonasera a tutti nuova diretta oggi è 6 aprile vero finalmente ho zeccato la data perché ogni giorno ogni giorno è un buongiorno per far bonsai ciao a tutti oggi abbiamo quest'altro oggi facciamo due piante differenti sì che ci sono lentischi io li devo portare a termine giù come giusto che sia perché 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 bisogna fare delle cose in questo momento che non si che è meglio non è meglio non tralasciare questo perché ci sono momenti in cui bisogna se vogliamo fare un bonsai eccetera fare bonsai seriamente ci sono i momenti in cui dobbiamo fare assolutamente determinate cose questa è una pianta che anche lei è stata cavata solo da un anno ed è alla sua seconda vegetazione abbondante molto forte il raccoglitore tende a fare un mix anche per risparmiare il materiale che c'è dentro però in questa occasione ha inserito una quantità abbondante di bardo almeno un 30 per cento è detta da lui non ha mai visto lentischi reagire vegetare in questa maniera dopo un dopo tre mesi mi ha detto che qualcuno ha avuto l'esigenza di cambiarli di vaso e la pianta manteneva tutta la bardo la trattenuta con le radici dopo solo tre mesi dall'attecchimento quindi diciamo a fine fine estate questo è molto molto positivo quindi se vedete niente che è un mix questo io non lo faccio perché poi comunque tende a dare un po di problemini però già che abbiamo un'ottima base di un'ottima quantità di bardo all'interno queste sono parole sue so che ascolta anche le dirette che faccio se le guarda e quindi non posso neanche dire stupidaggini giustamente le come le bugiano le gambe corte quindi un altro esemplare di lentisco molto interessante molto bello una forma bellissima una corteccia fine tra l'altro quindi non è grossa corteccia fine molto bella molto interessante in questo caso ha già la sua direzione la pianta è molto più facile da stabilire un fronte diciamo che io sceglierei praticamente questo qua prendiamo penarello prendiamo penarello secondo me il fronte esattamente questo adesso adesso lo giro e non lo so come si possa vedere dalla ecco il fronte questo qua perché perché in questa maniera allora rispetto al fronte la pianta è girata e viene verso l'osservatore quindi non è laterale non viene esclusivamente di lato ma in diagonale verso il lato sinistro e c'è la presenza sia di parti vive che di parti morte molto interessanti che hanno un andamento delle vene molto interessante mentre su questo lato o sì o sì una bellissima base o un bellissimo movimento però non ho la presenza di legna secca quanta neo dall'altra parte quindi mi fa protendere per utilizzare un gusto personale utilizzare questa parte tra l'altro si vedono anche le zone inizio a vedere le zone morte dalle zone vive come faccio di solito questo attrezzino è in preparazione quindi entro qualche giorno abbiamo sia le sgorbie a tirare sia questo attrezzo qui molto molti me l'hanno chiesto e quindi l'ho messo a fare al volo adesso siamo le sgorbie altrimenti non ce l'abbiamo più ok è importantissimo perché ci permette di lavorare di ricercare l'avete visto tutte queste dirette io praticamente probabilmente questo è l'attrezzo che io uso più di tutti giornalmente visto che mi cimento a lavorare spesso piante raccolte natura però questo attrezzo è utile anche se avete ad esempio degli dei ginepri a cui volete staccare volete staccare la corteccia dove laddove ce ne sia troppo sono ginepri molto piccoli e questo è utilissimo per quello scopo possiamo che avvicinare la camera secondo me è meglio così si vede bellissimo è bellissima base sono proprio contento di questa pianta qua allora poi cosa facciamo subito questi germogli siccome abbiamo la stessa presenza anche in alto nella vegetazione alta di questi germogli e la pianta già ben radicata abbastanza attekita diciamo così questi vanno tolti chiaro completamente tolti prima che si creino dei rigonfiamenti anti estetici si vedi che allo stato attuale non ci sono rigonfiamenti dove crescono e quindi bisogna essere attenti appena vi è fuori una gemmetta la togliamo qui c'è della corteccia corteccia vecchia c'è il nido di qualche ragno qui addirittura abbiamo due vene una che parte da questo lato e passa sopra e un'altra che parte da qua quindi si si dà una pulita si cerca di capire dove siano anche in questo caso parti vive parte morte iniziamo a dare una pulita nel frattempo la chioma cresce nel frattempo le vene più attive crescono si gonfiano e noi ci facciamo una idea questa piantina da bulbo ci facciamo una idea più preci sempre più precisa di quello che possa essere il suo futuro questo è un lavoro di pulizia che come ben sapete come piace parecchio è anche praticamente uno dei più importanti qui c'è una zona secca qui bisogna capire da dove arrivi l'avena viva perché ho visto che mi pare che arrivi da dietro e non so anche qua probabilmente collegata questa però questa mi sembra inattiva questa parte qua mi sembra inattiva l'unica l'unica maniera di capirlo è effettivamente quella di incidere dove non al centro perché se fosse viva la roviniamo quindi partendo qua di lato in un punto in cui sappiamo non rovinare servirebbe un po più di luce su questa parte qui ok no proprio non vedo è parecchio dura e quindi è possibile che non sia è possibile che questa vena non sia attiva si può comunque e gira va dietro si può comunque aspettare non la fretta non serve ma a me c'è poca luce adesso non lo so mi sembra che non è non si attiva questa acqua è troppo dura conviene lavorare anche magari con il tremel andando a scavare piano piano ma quello che vedo proprio esattamente che non si attiva anche perché arriva da qua arriva da dietro quindi una cosa che posso fare cioè sarebbe alimentata da questa parte qua però probabilmente questa parte è morta si vede sì si è troppo è troppo dura effettivamente non è attiva almeno a questo punto non è attivo quindi come hai visto sono partito da una parte un po nascosta perché ovviamente poi anche se incido una parte viva nel giro di 56 anni sicuramente i segni non si vedono più ecco possiamo vedere benissimo è molto dura quindi usare questo attrezzo ci si può anche far male proprio perché la parte è molto dura si può pulire praticamente questa acqua è inattiva si può pulire e raschiare col tremel in totale sicurezza quindi questo è un primo attrezzino dove fare dei saggi delle pulizie leggere ma poi nel momento in cui siamo sicuri che ad esempio tutto questo percorso sia non sia vivo allora possiamo tranquillamente utilizzare un attrezzo anche ad alta velocità questa parte cava e quindi in qualche punto lasciarizziamo creiamo uno scavo sciari in giapponese significa scavo qui o una parte di corteccia ma tutta questa zona non ha vegetato è a gusto mio neanche neanche ci starebbe tanto però prima di eliminarla completamente aspetto posso anche aspettare un anno quindi in questa prima diciamo primo approccio con la pianta abbiamo già stabilito che questa parte qua è secca quindi però questa pena qui è viva perché c'erano dei germogli sia in questa zona che in questa zona va benissimo usare questo come fronte perché comunque abbiamo la partenza sulla base abbiamo la partenza sulla base che è a vista che è viva così ok questa parte qua e questa parte qua sono sicuramente vive invece questa zona è morta bisognerà lavorarla togliere tutta la corteccia una cosa che bisogna fare in questo momento u che è urgente è scegliere la ramificazione quindi non lasciamo due rami che crescano sullo stesso punto ma ne lasciamo solo uno però vi ragioni altrimenti diventa tutto anti estetico questo piccoletto qua lo togliamo quindi abbiamo uno grosso e uno fine anche in questo caso io tolgo il fine poi da qui bisognerà fare l'apice ce ne sono addirittura quattro rami che partono dallo stesso punto come mio stile lasciarne un pezzetto per non rovinare la base di questo chiaro allora avete visto sempre che ho defogliato ho sempre defogliato però se vi ricordate la diretta che ho fatto se non sbaglio l'ho fatta ieri la pianta presentava delle foglie che non fotti sintetizzano più e allora le ho eliminate invece in questo caso le foglie sono di un bellissimo verde scuro brillante e le lascio non le tolgo questa è piuttosto brutta questo non serve a niente proprio briciolette però per il momento e in più la pianta sta anche vegetando quindi questo momento io queste foglie le lascio e lascio un po tranquilla la pianta quindi ogni volta qui abbiamo due gemme due germogli molto vicini non è detto che questo serva per il per il disegno generale proprio non è detto che serva anzi secondo me è di disturbo e quindi quei germogli che ci sono là e quindi perché questa zona l'ideale che resti vuota secondo me quindi gli elimino li elimino direttamente questa parte ma addirittura vede che crea una sorta di pezzo di ramo che è rimasto pezzo di ramo che la parte lì va proprio eliminata ora se riesco a farlo senza muovere troppo la pianta una parte proprio lo faccio anche qui ci andrebbe la motosega e bisognerebbe lavorare con la motosega legata bene la pianta al vaso è il colpetto di motosega si risolve allora voglio far notare qua sopra è stato messo il mastice si vede qui è stato messo il mastice guarda sin dove è seccata la pianta sin dove è secato il ramo tantissimo questo per dire il mastice non serve non serve a nulla non ha alcuna funzione è seccato sin qua puoi leggere i cometi ce ne sono ciao a tutti chi è emilio di gristina ah bene ciao emilio poi basta basta è quello che hai visto te sì qua andrebbe fatto proprio con la motosega legando pochino la pianta però volevo io sono un po testardo volevo toglierne un pezzo eh sì perché sto facendo le dirette senza senza avvisare senza dare senza preavviso e quindi ma poi ho visto che le visualizzazioni più o meno sono sempre dello stesso numero ciao ragazzi con la manina che faccio quindi adesso vediamo che dal fronte poi aver tolto questa parte è stata una buona scelta perché perché questo tronco faceva da stop da stop a livello ottico l'occhio si fa sarebbe fermato anche qua e invece nella formazione nella nel guardare una pianta l'occhio in certi punti non deve fermarsi soprattutto in questo caso perché non deve fermarsi perché non è una particolarità della pianta non è una caratteristica della pianta questo ramo sarebbe stato di disturbo di disturbo proprio perché le piante vanno modellate in modo tale che la propria struttura sia facilmente leggibile quindi ora ho dato una prima sgrossata con il tronchese sferico e posso anche benissimo rifinire questa parte sempre cosa arrivi tu sempre anche con questo perché è abbastanza veloce e evito anche che molte molti germogli si sviluppino evit perché dico che evito perché già li vedo sono presenti un sacco di germogli pronti a svilupparsi e allora tolgo già direttamente questa questa possibilità non sto creando secco nel senso che non sto modellando una parte di secco ma sto solo togliendo la corteccia da questa zona in modo tale che non si riempa comunque di gemme e che la pianta lavori laddove effettivamente ora mi serve che lavori lascio anche dei passaggi anche se qua questo lo posso togliere completamente anche se sono sicuro che la pianta sia comunque ben alimentata non vado troppo troppo sotto troppo a fondo questa parte qui va abbassata ancora perché comunque non ha senso di esistere troppo vicino alla base per farne un gin per fare un qualcosa che c'è bisogna fare qualcosa che invece esteticamente e visamente visivamente ci sia stato quindi rappresentarlo col vuoto quando questa è la comprensione maggiore di quando si dice la l'importanza dei vuoti chiaro un vuoto che lascia intendere che in quella zona un tempo c'era un ramo o una parte di tronco che seccandosi abbandonandosi abbia lasciato spazio poi al resto ok? quindi qua poi sarà scavata ulteriormente proprio qua al centro in direzione del fronte perfettamente così adesso mettiamo meglio ecco vedi che adesso si di garba te garba vedi che adesso allora non metto neanche il filo sui rami lo metto in un secondo momento perché la pianta sta vegetando e quindi non voglio in nessuna maniera bloccare bloccare questa vegetazione questo è il fronte è stato tolto la parte di disturbo la dietro e adesso tutto il tronco è perfettamente leggibile ci sarà la sua vegetazione la sua chioma ovviamente staremo corti sul lato destro e più lunghi sul lato sinistro questo è ciò che suggerisce la pianta anche soprattutto per il fatto che riesco a farla girare vedi che su questo lato non sopravviva nulla quindi avevamo anche un tronco ecco si vede un tronco che poi lo scaviamo nello stesso stile dei buchi che ci sono presenti qua sulla pianta queste parti scure e abbiamo ancora una volta lavorato con coerenza la coerenza guarda c'è un altro buco anche lì si vede in questo punto qua anche quello è un ex tronco è molto visibile quindi su tutta la parte bassa ho esempio di ex tronchi e così devo continuare sì esattamente questo punto fronte fronte scelto guarda che bel movimento ciao gabriela borio mario rosanna cavallo eh sì guarda che bel movimento che ha quindi dovrò valorizzare al massimo anche con la vegetazione questa parte qua secondo me è troppo alta addirittura la eliminerei la la eliminerei questa parte non lo so se poi pulita potrà spuntare tra la chioma anche quello potrebbe essere un'idea visto che di solito visto che di solito abbiamo in apice tutti esemplari che hanno solo chioma in questo caso potremo avere anche un tenjin questa parte non ha vegetato e quindi è diciamo che è morta ma da poco chiaro quindi è più è più labile questa la voglio lavorare col dremel e non non è l'ideale lavorarla con questo faccio prima col dremel e non muovo assolutamente la pianta va solo scortecciata 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 e poi lavorata in una certa maniera qui abbiamo un taglio questo taglio qui lo stesso si può lavorare a shari si vede si qui è stato tagliato questa parte qui personalmente tendo a lavorarla attraverso la realizzazione di uno scavo ma questo è suggerito dalla pianta stessa perché dentro comunque è cavo quindi la scoperta dell'acqua calda però bisogna saperlo e dice che ha scoperto l'acqua calda ma un altro non l'ha scoperta la scoperta giusto giusto si lo farei terminale direttamente con la parte viva questa è l'idea quindi qua lo voglio raccordare direttamente con la parte viva vediamo cosa riesco se riesco a rovinarlo anche questo come ho fatto qua risulterebbe uno stop invece eliminandolo uno segue l'andamento della parte viva e finisce sui rami quindi invece per quanto riguarda questa parte secca qua di solito non non mi piace tanto ma in questo caso penso esattamente l'opposto che ci posta ci possa stare per sicurezza qua mi fermo non troppo vicino alla parte viva perché non ha senso è probabile che sulla parte superiore che in questa parte superiore tra questi due rami è probabile che qui sia secca e quindi sarà lavorata con il proseguo di questo shari così arriva sulla parte secca tutto ben raccordato la piatta è ben radicata però comunque si muove e non va tanto bene anche questo sembra che qui questa è una parte del lavoro una parte di lavoro bellissima che ti permette effettivamente di scoprire come le piante siano fatte anche in questo caso comunque ci vuole molto esperienza bisogna aver visto e lavorato molte piante per prendere certe decisioni questo è il motivo per cui vi hanno sempre detto che online non si farà nulla ma non è tanto vero perché se ogni giorno io lavoro una pianta e vi mostro le motivazioni per cui l'ho lavorata in quella maniera alla fine uno capisce e impara quindi non ci vedo tanta differenza tra una dimostrazione sul palco io so io e voi non siete bip puntini 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 come disse qualcuno non c'è alcuna differenza in quello che tu stai proponendo un po di corteccia attaccata nella zona che in futuro sarà lavorata un po morto possiamo darci colpetto di questa giusto per esporla un po meglio agli agenti senza arrivare alla parte viva è giusto per darci una mano a come fare la bozza di un disegno questi sono i fori di cui parlavo prima guarda c'entra tutta la sgorbia dentro e anche qui quindi è anche qua e anche qua allora tronchese fessuratore che uso pochissimo ma in certi casi è utile non solo per fessurare parti di rami vive e poi lo sferico un po più piccolo diamo ad agio e raccordiamo tutto si può comunque sempre rifinire in un secondo momento dopo una bella crescita da parte della pianta lo sviluppo e stabilizzazione delle radici e di tutte le zone vitali rispetto a quelle non vitali quindi io intendo fermarmi a questo caso intendo fermarmi qua il fronte che abbiamo visto è questo quindi questo è il movimento che va in questo caso verso quella parte ma porterò porterò il rami soprattutto questo a creare tutta sarà abbassato a creare tutta la vegetazione vegetazione che starà bassa al di sotto di questo sciari quindi non lo sta quindi parte da qui ma poi comunque la vegetazione sta al di sotto di questo sciari poi lo lavo con la lo lavoro con la fresa lo vediamo la chioma sarà corta molto corta su questo lato questo tengin si vedrà e avremo la vegetazione che si sviluppa da questa parte è chiaro e questa è una c'è l'altra ma visto che si è fatta una certo orario allora io volevo fare così domani mattina anziché andare farò al contrario domani faccio il contrario anziché andare subito subito a lavorare alla bardula e c'è una c'è una bella sughera simone romano ciao femmini allora io in genere di mattina vado a lavorare la bardula domani anziché andare a lavorare la bardula risolvo il famoso olivastro bisogna lavorare fuori oggi ha messo tempo brutto che non mi andava quindi domani mattina alle 9 alle 9 lavoro sull'olivastro con la motosega sarà diviso in due parti e ogni parte sistemata in vaso questa pianta a me piace veramente tanto bellissima guarda c'è una corteccia movimento fantastico ciao gianluca veramente bella estrema e a un albericità incredibile guarda queste fronte a un albericità molto molto bella ciao federico bellissima sono molto contento di questi lentischi perché hanno un altissimo valore estetico parecchio belli tutti veramente contento bravissimo cavatore bravissima persona che sceglie con cura i materiali sono piante molto vecchie quindi anche al punto di vista forestale hanno un valore molto ridotto perché sta essendo molto basse nel momento in cui ci sono degli incendi oppure pascolo di animali vengono schiacciate o bruciate completamente quindi è questo mi piace e sì che ci piace ci credo ciao davide marchetti federico si è uno spettacolino di pianta soprattutto probabilmente anche una delle più vigorose perché sta vegetando e foglie sono belle bel fogliame secondo me ho fatto bene a togliere questo tronco qua per dare questa parte qui sarà rastremato e lavorato meglio proprio abbassato come se fosse cielo al contrario il ditto come se fosse questa parte qua chiaro quindi va abbassato e lavorato meglio però poco per volta si arriva sempre a piccoli passi si fa al giro del mondo e l'inizio di un grande percorso avviene col primo passo è questo e primi passi sono importanti questo è un bel è un bel primo passo vero si emanuele annuisce se lo dice lui ok allora domani mattina a dalle 9 in poi perché faccio tutto nella stanza blu domani mattina dalle 8 e 30 alle 9 faccio un po di spazio perché ho tutto il legname che utilizzo per fare i vasi quindi dopo faccio un po di spazio una bella pulita ho visto le previsioni c'è un bel sole quindi sono coadjuvato anche dalla luce esterna di taglio molto interessante e ci vediamo nella stanza blu domani non mancate vi saluto buona serata ciao 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 ciao